Sarà ridotta del 20% da gennaio sino alla fine del mandato l'indennità del presidente del Consiglio Comunale di Caltanissetta, Leila Montagnino. È stata infatti accolta con determina della Direzione Affari Generali la proposta di riduzione dell'indennità presentata dallo stesso presidente del Consiglio Comunale. Al presidente Montagnino spetta l'indennità ridotta del 50% pari a circa 1.600 euro l'orde poiché lavoratrice dipendente non ha chiesto aspettativa. Somme quelle che verranno decurtate dall'indennità che saranno accantonate in un apposito capitolo per poi essere destinate a fine anno per le esigenze e necessità della città. È una scelta che io avevo da tempo, cioè avevo già pensato da tempo, dall'inizio e ho deciso di farlo per dare un piccolo segnale. Io sottolineo un piccolo segnale chiaramente perché non è che con queste somme chissà quali problemi possono essere risolti però è un piccolo segnale che io volevo dare in modo tale che a fine anno perché queste somme che io metterò da parte verranno proprio messe proprio da parte al mio apposito capitolo per a fine anno decidere cosa fare, sempre a disposizione della città e di quelle che possono essere le esigenze dei cittadini. È chiaro che quello che più conta, infatti non è tanto importante questa azione che io ho fatto, cioè quello che più conta è per me svolgere il proprio ruolo a seconda delle proprie posizioni, del proprio ruolo in maniera seria, in maniera tranquilla, con senso di responsabilità perché quello che è importante per i nostri concittadini è il fatto che dalla politica ci siano dei segnali, qualsiasi essi siano, perché dobbiamo essere un punto di riferimento per loro. Ecco, io ho sempre fatto questo ruolo, prima di consigliere ero da presidente del consiglio perché intendo mettermi a disposizione della città e dei cittadini, altrimenti non l'avrei mai fatto, questa è una cosa che ho sempre fatto con passione, non è chiaramente una necessità per me fare politica, quindi spero che con questo piccolo gesto si possa far capire la città che dalla politica si può avere fiducia, cioè della politica si può fare qualcosa e si può avere fiducia nella politica e nei politici e in chi fa politica. Siccome io ritengo che questo comune, questa amministrazione e anche questi consiglieri possano fare veramente qualcosa per la città di Caltanissetta, questo è un piccolo segnale, ma io mi auguro che nel mio ruolo possa effettivamente svolgere il mio dovere con senso di responsabilità e questo si veda, questa è la cosa che a me più interessa.